Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video! Oggi ci sarà la videoricetta del tiramisù Dukan me l'avete richiesto tantissimo dopo il video vlog che ho fatto ho diviso le varie parti della ricetta in più video proprio perché questa ricetta contiene la dutella quindi si può fare anche tranquillamente senza il tiramisù la crema, io la chiamo crema mascarpone però è fatta con la ricotta, quindi crema di ricotta e vi lascerò anche questa ricetta e infine la cialda di biscotti di tofu e anche qui la dividerò quindi ci saranno le tre ricette separate per poi arrivare a questo video qui dove ci sarà l'insieme per sistemare e creare il tiramisù che poi tutte sappiamo fare però vi facciamo vedere come l'abbiamo utilizzato vi posso dire che è buonissimo potete fare la stessa ricetta senza fare appunto i dischetti di tofu quindi dividendo gli strati di crema dutella e crema appunto ricotta chiamiamola come volete e anche la nutella potete farla bianca quindi senza aggiungere la crema di mascarpone ma utilizzando altri aromi ma anche questo ve lo lascerò detto appunto in un altro video quindi io spero che vi piaccia è molto veloce e semplice e al prossimo video ciao! mi raccomando la possono mangiare tutti non solo chi fa la dieta Dukan ciao! al prossimo video! musica 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 Grazie per la visione!